cari amici buonasera siamo qui in compagnia di un membro d'eccezione dello staff calcione andrea marchini ciao andrea vuoi dirci cosa consiste il tuo ruolo in questo calcione faccio un po di tutto dalle righe recupero pallone oggi abbiamo perso i due ragazzi è stato un difficile bisogna stare attenti bisogna stare attenti ci vediamo tutti venerdì 17 no 16 ci sono ancora tre partite il campionato è ancora lungo si può fare si può fare ancora diciamo qualcosa di tutto ultima domanda sappiamo ovviamente che lo staff calcione è super partes ma tu invece andrea hai qualche preferenza vabbè vabbè io alleno moto quadri che gioca venerdì siamo otto elementi di cui due tre innesti vediamo come si si evolve la squadra così siamo un po otto elementi di cui otto innesti speriamo di spero di vincere il calcione se non si vince pazienza l'importante l'importante partecipato giustissimo grazie andrea per oggi è tutto e questo è il calcione 2017 no facciamo fare la chiusura a marca aspetta non è finita marca facci la chiusura col microfono chiusura porta la mano davanti vieni vicino avanti la camera e questo è il calcione del questo è il calcione 2017 a voi studio siiii grande